La squadra finita, che squadra senti di avere nelle mani quest'anno? È una squadra che avrà, secondo me, un po' più di personalità. Conto molto nella crescita di Portannese, conto nel fatto che avere due giocatori come Nicevic e Solagna possono essere un pochino anche da esempio. L'anno scorso la squadra è stata fatta per affrontare la B1 e poi chiaramente sono stati aggiunti dei giocatori che dovevano per forza di cosa fare la differenza. Quest'anno io e Peppe abbiamo avuto invece, Peppe soprattutto rispetto all'anno scorso, una serenità diversa e un obiettivo unico. È quello appunto di costruire una squadra fin dall'inizio per il campionato che sappiamo che andremo ad affrontare. E quindi abbiamo, secondo me, fatto una squadra che ha un po' più di senso da quel punto di vista, una squadra che è un po' più equilibrata. Poi, chiaramente, il fatto di aver preso due americani di un certo tipo, o comunque due americani, in ogni caso, come succede per le altre squadre, sarà importante appunto aver pescato bene nel mazzo.